Ci dirigiamo dal saputo verso le colline di Cleto. Ora dobbiamo attraversare il saputo, vai Gianni, vai Francesco, la giuca mezza pedalata, piede nell'acqua e via. Il primo saluto di Maurizio, il grande, bravo Maurizio, bravissimo. Guarda mezza pedalata, guarda Gigliottista, nemmeno una goccia d'acqua. A piedi freschi? Eh dai, a piedi freschi. Oh capitano cerca il luogo, ma sarà difficile che lo riesca a trovare. Bellissimo. Vai Maurizio. È spettacolare Maurizio è bellissimo. Grande Maurizio. La sensazione è bellissima. Guarda che la sensazione è bellissima. Guarda che la sensazione è bellissima, guarda. No, se era vero, no, la nostra scatola è sparata. Oh capitano, l'aiuto con i piedi nell'acqua, guarda, va. Capitano, la prima volta che ti vediamo attraversare un fiume con i piedi nell'acqua. Guarda, mettiti gli occhiali, non ci vedi. Dai, così ecco, bravo. La vediamo la catena, sì. Allora, quella è la catena. E questo cos'è? Questo è il perno. Cosa? Quello è il perno. Quello è il buco, va vedere il buco. Il buco è il tuo, va. Questo Enzo, devi sapere che è successo. Per non seguire Enzo per fare. Beh, hai visto? Mami... Ben ci sta! Ben ci sta! Ben ci sta! Ben ci sta! Mettaci la faccia! Non è che è bello. Non è che il ciuccio non ne vuole. Beh, bisogna spiegare. Come con lì non si prende. Non si prende. Guardate il pionde Maurizio, bravissimo. infinito d'oro. Non ho chiuso. Non ci vedi. Gigi a te ce la fai? Ho, gento l' 시작i. Hai quinto ciudad apricichetto Maurizio. Vedo che hai dei combinatorie. Occhio strada interrotta Maury Pino dai che è finita dai Guarda due big sono scesi a questa salita Guarda va Conace e Gigliotti Giusto per far vedere la durezza della salita Com'è lui? Non ce la fai? Eh dai, piano piano si sale Vai Mori, sali di nuovo in bici Eh va bene, è dura Questa per esempio è la vallata di Cleto Qua sopra abbiamo madonna il castello del saputo Grande, vai Oh che bello quel ruvere va Oh Pino questo lo chiamiamo il giro delle cipolle Bella, bella Oh che bello come Grazie a tutti